Anfaggia a tutti ragazzi, qui è cane lupo E siamo alla settima parte ragazzi Settima parte, settima Ottava, nona, decima, mancano Sì, io finora ho fatto sei partite Mancano quattro partite Questa è la settima, sì, esatto E ho controllato sull'onesto, sono tutti arrancati L'altrano erano tutti arrancati Poi loro non so che cazzo perché hanno Yasuo col tp Perché hanno Namico tp E YAL perché hanno pinne con flash Finite, non significa flash Non si è capito un cazzo, spero che trollino così la minciamo Mettesimo minuto, ci metto dobbiamo a caricare il video Easy peasy, holy moly, fuck you shit, fuck the police system Holy shit, oh my god, fuck you Comunque regà È da un po' che siamo arrivati a 5.000 iscritti E non ho mai avuto l'occasione di dirvi O forse sì, ce l'avrò l'occasione Non lo so perché sto registrando tutte le partite di fila Potrebbe essere che domani mi scatta la passica E carico un vlog Qui dico Ah, ah, 5.000 iscritti Ah, ah, ah Dunque io non voglio fare sempre la solita pacquardella, cioè Grazie, 5.000 volte Grazie per voi Cioè È una rottura dei coglioni Basta Io so contento Io so contento Dove siete contenti io so ancora più contento Questo Potete essere in 100, potete essere in 1.000 L'importante è che vi divertino i miei video Imparate qualcosa E ci divertiamo tutti assieme Vedendo le parodie di Chiavator Pure, vai pure aiuto Io ballo Ballo, ballo, ballo ogni mattina Dai, aspettate Vediamo che rispondono Gala 20.000 30 secondi Per il Minion Spawn Contro il Yasuo mi maxo la E Perché le Q magari me le potrebbe proteggere con lo scudo Quindi faccio ulti e Lo sciotto Ah, ma tu vorresti un aiuto tu Tiè Non vado a decancellare e rimettere Quindi lo riscrivo così Cane the Brewing Fire Purifichiamo queste legate Il cazzo Settima parte ragazzi E dopo questa mancheranno solo 3 partite Per ora siamo 3 vittorie 3 sconfitte E E LOL Io non so che cazzo Stare smarfando Che elo? Qual elo? Che cazzo? La gente però non è normale Ah Yasuo top Ora se Nami è mid Nooo Ecco perché Mendinger Challenge Source Perché c'ho C'ho me contro Mendinger Ma sai che uno smarf Ecco dici C'ho un capocione assurdo Oh my god Sto contro il Mendinger Ma il Max Soler è lo stesso It's burning It's burning Ma guardo lei perché Tanto non ci ingaggerò mai O lo rasserò mai Aia Ho 13 million E in teoria ce ne dovrei avere 12 Perché il massimo che ne spawnano Non lo so 12 Ma siccome ho anche le sue da rete Ci giro il sbaglio Di appio Oh Brucia Ci giro il sbaglio C'è l'ultimo che posso fare È un po' E poi basta ha fatto una cazzata io ma non capisco che cosa abbiano fatto loro è finito il mana stront sceletto no 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 non è che sto a farmare 5 minuti e 41 di farm e lui 9 se veni qua me lo killo no ho solo dominio ok regaliamo ora loro hanno Yasuo hanno Nautilus hanno Erwin Dinger farmi l'Extricer non mi conviene quindi che mi faccio non mi posso fare direttamente la BF perché prima mi serve un item che comunque mi dia cooldown o armor pen o comunque vantaggio tanto lì nella BF solo con un item direttamente non mi da tutto questo gran vantaggio perché comunque Erwin Dinger già lo sto sfondando di mio quindi che mi faccio mi faccio un item che mi da AD cooldown e armor penetration che è una cosa più bella che ci sia su Zed e poi l'altro lungo sword per un pereccepter e poi la BF ora è questo io se l'ho ulto l'ho shotto l'ho shotto veramente raga volete vedere? avete visto voi che non ci credevate? bravo 264 tiè questo sta afflammando sta afflammando il stile blu deciso ho preso la mia decisione push questa web e poi il stile blu a meno che non è iniziato da rosso corri 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 mi sa che è iniziato da rosso sapete? perché è andato verso il rosso non è andato verso il rosso ah iniziato dal blu vai vai oh vedi com'è tuo stile vabbè andiamoci a fare sto blu novilus vieni vieni raga però lo vedo non è che ci parto lo ammasso di botte bravo no è più scherzi oh fri allora vieni 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 Quanto sta forte! Troppo forte Eh, bravo, onorata, ma va Ah, regà C'ho pure 84 di farm, mi rendete conto? Non è che sto avanti, sto tipo Ho vinto il game da solo No, il cannone Vabbè No, grazie Nove minuti e novanta di farm, regà Ma che body la fa? Buon job, questa la sorrendono Ma sono fatto triple kill con Z Sto al minuto nove? Sto al nove, al minuto nove Non esiste E il manninger è un bel picker contro Z Ma se lo giochi come lo sa giocare a questo Non c'è item Ha 15 farm Che cosa vorrebbe fare? Ma va FK che è meglio, guarda Cioè tu non puoi giocare così Fai rage e guittare i compagni E ci hanno pure ragione E il manninger è morto Carres un fred syma Cioè Enter blu, per favore. E ora rendiamo un mid con tutta tranquillità. Shot, shot, raga. Questa partita è vinta. Canto è bello il gioco a Zed. A sti livelli è proprio una cosa. Easy, easy. Tre volte l'ho portato e tre volte ho vinto, mi pare. Non so sicuro. Non credo easy, però non so proprio sicuro. Aio. Che dolore. Guardate la farm, regà. Che cazzo te sono? Sona così forte, che cazzo te sono così forte? C'è la gente che sta a fare i video! Ma l'educazione? Vabbè tanto... Vabbè mi è ruota il culo però... Allora... Scusa... Tipo ora è tipo... Ma questo è un coglione! Avrei detto sta frase! Allora... Sapete ora che si fa? Passi gatti! Sì... 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 Nel giudo te morì! Sì... 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 Allora... Allora... Oh stronzo! Fallo al cesso! Sì... 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 Non vi preoccupate... Non muoverò... Il telefono... Perché è un dannato telefono? RISPONDI MA! Sì... Quello c'è... Bro... cagari! RISPONDI! Bole raggiunge! river2 Plac mi che veva suattura! Mi? Per essere trainingi 8 suodale! LecAMI. Grazie! No! Mi te rariante! Volevo io, ho la sui sparredi. Volevo io, ho la scuola, ho la scuola, ho la scuola. Qua si surrendano, per forza. No, non possono vincere. Cioè, guardate i farm, ragazzi. Sto a frama tantissimo. Oh, ma weh. Nami ha trollato, credo. Vado a prendere pure... Ho un casino dei soldi per regallare, infatti mi regallo. Vado a prendere prima il rosso loro e poi regallo. Cioè, 4.000 gold, parca dici. 200 farm al minuto 18. Cioè, 5.000 gold, parca dici. Nami ha preso. Vado a prendere. Vado a prendere. Vado a prendere. Vado a prendere. come la fia una venta qui ahhh FETTA KILL! FETTA KILL con la smartpunk Ora vedete tutto bloccato perché ho fatto uno screen PENTAKILL! Anche con lo smurf E' bello che me l'hanno lasciata, gentilissima Arrivo, continuo, continuo No, io fa un'altra Mo ne faccio un'altra, ne faccio un'altra, ne faccio un'altra, non lo sento 6.000 gold BAM DAGKA BAM DAGKA Sono morto Si cassimo, io ho usato tutti gli item, che ci frega Allora raga aspettate un attimo, ora vedrete tutto bloccato Ah no, ah no, no Abbiamo vinto Eh, aspettate eh Sto a prendere lo screenshot Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto un bel like, se vi fa commentare, se vi fa condividete 4 E 3 perse, unfaccia a tutti ragazzi, da cane lupo